Allora la radice quadrata di una frittella è equivalente al peso di una balena si proprio così Ciao a tutti e bentornati ragazzi spero che oggi siate più intelligenti di me perché oggi c'è un cervellino veramente minuscolo Ehi vi siete già iscritti al canale io spero proprio di sì perché oggi mamma mia diventeremo Chi è sto qui è lo scemo del villaggio ciao è il più stupido di tutti cosa ci fai qua salve bella faccia ho qualcosa di carino per te Che cos'è ho l'abilità doppia moneta vuoi provarlo per 5 minuti sì per favore sì ovviamente Uh ecco te grazie scemo del villaggio ok ragazzi oggi dobbiamo diventare più intelligenti possibili E la nostra testa deve diventare così grande che la professoressa di matematica non dirà più Oh non so le tabelline invece ti farò vedere che è un cervello così grande che scoprirò la velocità interspaziale per arrivare su marte Ok doppie monete abbiamo le doppie monete ragazzi quindi più diventiamo intelligenti più riusciamo a salire sulle nuvole Mi raccomando se non l'avete fatto lasciate subito mi piace perché oggi bella faccia diventerà il più intelligente di roblox E certo perché lo sono già oh 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 monetina doppia monetina quanto mi dai Uh un sacco di monete ok 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 più monete 5 minuti di monete non possiamo Ok perfetto non possiamo sprecare 5 minuti di monetine oh mio dio Ohi vola 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 altre monetine eh però bella faccia che hai oggi ai piedi di burro Cioè ho capito mamma mia quanto sono ho una testa enorme ho una testa enorme ma non sono così intelligente da riuscire a saltare sulle nuvole Ok devo capire la la percentuale di di della rotazione della nuvola per capire dove atterrare tutta la mia intelligenza mi deve servire a questo Ok salta 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 oh ma ci sono un sacco di monetine le vuoi prendere o no ok moneta presa perfetto Un'altra moneta non cascare bella faccia ok ce n'è un'altra lì eh ce n'è un'altra proprio qua sotto eh Ok il tuo cervello è pieno ma come aggiorna io voglio aggiornare ma non ho abbastanza soldi Non ho abbastanza denari non ho abbastanza denari devo vendere la mia intelligenza ma col ca... Mamma mia che paura quanto casco c'è che soffro di vertigini roblox eh Ok adesso dovrei riuscire ad aggiornare il cervellone ok aggiorna il cervellone perfetto Vai 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 studiamo studiamo ancora di più bella faccia mamma mia ho speso tutti i miei soldi ragazzi Però mio dio per aggiornare il mio cervello devo diventare ultra intelligente perché io domani sono a bella verifica eh Così sicuramente riuscirò a copiare tramite le mie cellule nervose del cervello Ok vai vogliamo in alto ma fin dove arrivano queste nuvole se guardate si arrivi in altissimo Ma fin dove si arriva ragazzi oh ok salve che è il più televisente del mondo tu cosa offri mi dai qualcosa Ciao mi dai qualcosa allora bella faccia vuoi di nuovo più velocità si per favore Dai un'occhiata al game pass ti piacerebbe roblox eh per chi mi hai preso per un cervellone Ok vogliamo ci servono un sacco di soldini dai 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 vola 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 Pi in alto più 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 in alto ok più 150 molto buono molto buono molto buono E voilà dopo devo vendere tutti dove oh attenzione attenzione bella faccia non cascare come una pera cotta Dai dai aggiorniamo il cervello no a breve sapieno ragazzi non ci posso credere a breve sapieno il mio cervellone è stato inutile ma che cavolo Sì vabbè sono cascato giù negli inferi negli abissi ma che devo aggiornare ok vendi vendiamo Oh sono diventato sono diventato non intelligente guardate che testina minuscola però guardate pom 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 Guardate quanto studio sono troppo potente ho bisogno di un libro ancora più bello Allora vediamo Direi che questo libro 150 direi che questo libro fa per me equip ok Abbiamo un libro che cos'è attenzione rullo di tamburi geometria Cioè se io studio geometria diventa così oh mio dio allora studio di più geometria Ok in grandia oh posso entrare qua Allora campi tranquilli neve innevata ma che senso cosa vuol dire neve innevata Cioè neve vabbè il mio cervello non è non posso comprendere certe cose Dune andiamo in dune Ma sa per prima che potevo salire già qua su ok IQ raccoglitore di Oh cavolo potevo farlo anche prima mi sono dimenticato Ok mamma mia ma qua ragazzi serve essere super intelligenti per andare su Cioè guardate non ci arrivo neanche questo libro mi da più 1,3k ogni volta che studio geometria Mamma mia geometria averti conosciuto prima eh Ok c'è ho già il cervello pieno non ci posso credere il mio cervello Vendi vendi tutto ok perfetto sacco di soldi poi abbiamo eh Upgrade ok allora il cervello se vabbè 300 manca poco eh allora un librozzo 500k Libro magenta oh mamma mia no 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 diventiamo più intelligenti Allora devo arrivare a 300 a breve se arrivo per fare l'upgrade del mio cervellone Come tutti sappiamo il cervellone di bella faccia è super cervellotico Ok 307k aggiorniamo Oh mamma mia adesso posso arrivare a 200k di di quotiente intellettivo vuoi fare gara Allora vediamo tabellina dimmi dimmi 1 più 1 2 vedi sono intelligentissimo Oh mio dio che testa che è questa Questa sì che ha studiato qualsiasi cosa eh scusa ma come riesci a camminare con quella testa Mamma mia ha una testa decisamente zigate eh ma com'è che sto studiando Se sto studiando con il libro sotto il mento non so sono così intelligente che riesco a leggerlo comunque Ok allora vendiamo 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 possiamo comprarsi solo dei libri quindi Ok allora facciamo così andiamo in neve innevata Neve innevata sto arrivando premio giornaliero Dov'è ok capsula eq ok oh allora pupazzo allora qui avosa preso devo prendere le monetine Prendiamo le monetine se vabbè ma non cascare come un pero Sei proprio un pero bella faccia eh pero 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 monetina No presa vai grande ok continua così si le monetine comunque inutile prenderle eh Vogliamo in alto vogliamo in alto ok devo arrivare a 200k 200k ma sono tantissimi e comunque sia secondo me quella lì aveva tipo un milione ragazzi Quella lì era intelligente un milione ok vediamo vediamo andiamo Torniamo se ne su di sotto torniamo e torniamo in dune se voglio vedere quanto ci vuole ad arrivare fin lassù Se guardate ci sono le nuvole ma nemmeno con le ali riesco ad arrivare là eh Ok vediamo salta Oh no non ci arriverò mai ragazzi non ci arriverò Ah salto Mamma mia sono a 100k e ancora non ci arrivo e guardate che testa C'è una testa enorme Salto Ok ok lì ci arrivo Lì ci arrivi bella faccia Salta vai dai 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 ok bravissimo salta vediamo Ok arriviamo in queste altre Ok ci siamo salto Ok queste altre sono a 150k comunque sia eh mamma mia Ok saltore Ok 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 voglio arrivare nella prossima isola per favore Roblox Salto 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 Oh mamma mia quanto saltiamo in alto Ok salta Ok buono 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 Vai saltore Su 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 Oh ok vai ancora 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 mamma mia che cervellone gigante che ho Sono proprio intelligente eh Sono veramente intelligente salta Oh vedo l'isola Vedo l'isola Ragazzi vedo l'isola Se casco da qui no il mio cervello è pieno Guardate quanto sono gigante Sono gigantissimo Se io dovessi cascare di qui è finita veramente per me Spero di non cascare Roblox Roblox non farmi cascare per favore eh Ok saltone Devo stare molto attento Fai molta attenzione me la faccia eh Però la vedo Vedo l'altra isola ragazzi Pian piano ci arriviamo eh Dai 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 Salta Super intelligenza in azione Ok Ha arrivato vai La vedo ma è lontanissima È iper lontana È lassù è lassù è lassù Ci sto arrivando Ci sto arrivando piano piano Ci sto arrivando piano piano Forza 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 Ok Allora dov'è la nuvola Dov'è la nuvola Ok salta 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 che ci siamo quasi Salta che ci siamo quasi Salta 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 bella faccia Salta 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 Ok Un altro piccolo passo per bella faccia Un grande passo per i cervelloni Forse uno degli ultimi Vai Oh 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 È di pietra È di pietra È di pietra Rock galleggiante Oh ho sbloccato nuova isola Rock galleggiante I rock si fa Tenenene Ok perfetto Questa è l'isola di pietra Ok EQ Ok Oh sono intelligentissimo Ultra intelligente Ok Proviamo ad andare su Arriviamo alla prossima isola Ce la faccio a malapena Guardate ce la faccio a malapena Secondo me non ce la faccio ad arrivare più in alto dopo Buong 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 Il razzo bella faccia È così intelligente Che potentissimo Guardate che roba Oh Ciao nuvolette Pum Oh sono sempre meno queste nuvole piano Sono sempre meno queste nuvole ragazzi Sembra facile Ma non lo è Guardate quanto sono in alto Sono in altissimo Chissà tipo quelli che hanno 300 quadrilioni di intelligenza Fanno un salto ed arrivano subito quassù eh Con un salto Guardate Nooo Piano 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 Non parlare Non distrarti Oh Ma sono nello spazio È cambiato tutto Sono nello spazio profondo Oh mio dio Sono troppo in alto ragazzi Dopo mi butto Dopo mi voglio buttare eh Guardate Ma La luna era sotto prima Ci sono due lune Ma cosa sta succedendo Oh vedo qualcosa lassù Vi giuro che vedo qualcosa Cosa sono gli asteroidi Non ci credo Sono arrivato nello spazio ragazzi Guardate Oh cos'è la luna Non ci credo la luna Vai fammi arrivare sulla luna Sì C'è la luna Non ci credo Bolla spaziale Siamo arrivati sulla bolla spaziale Guardate gli asteroidi Oh Oh Boing Oh c'è anche un signore Raccogli Vai Raccogli Oh sì Salve Mi vuoi dare qualcosa Vediamo Cosa mi offri Yo Bella faccia Non l'ho di quando cadi fino in fondo Sì è fastidioso eh Beh È il tuo giorno fortunato Ho proprio quel che ti serve Che cosa Vuoi provare il game pass Ballon gratis Solo per 5 minuti È certo Oh mio dio Quindi è un palloncino Quindi non posso cascare giù Oh Oh Ah casco molto più Casco molto più piano Non ci posso credere Casco molto più lentamente adesso Oh mio dio C'è un palloncino Non ci posso credere No No Non l'ho preso Ragazzi è arrivato il momento Buttiamoci giù Testone in arrivo Oh mio dio Aiuto Aiuto Un meteorite Che cos'è il sole È un uomo È un pollo No è bella faccia Oh mio dio Guardate quanto ero in alto Oh Caduta libera Sì vabbè Ma quanto cavolo Ero andato in alto Ragazzi Col palloncino Vado molto più lento Poi eh Ma senza palloncino Caduta libera Papara Parapara Parapapara Mamma mia Ma ero salito tantissimo Aiuto Non voglio spappolarmi Mamma mia Per un pelo Ok direi di vendere tutto È arrivato il momento Di vendere Ok 354k Direi che è arrivato il momento Di prenderci un nuovo libretto Ok Nuovo libro Vediamo 500k Vai Ah Non ho i soldi Ah Hai bisogno Ah 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 Sì in effetti In effetti È perché sono tornato Non sono più intelligente Quindi non Non distinguevo la differenza Fra 500k E 350k Ok Perfetto Non ho più un soldo Ragazzi Direi che per questo video È tutto da bella faccia Abbiamo anche il nostro palloncino Fatemi sapere se volete un altro video Dove divento super intelligente E ci vediamo A un prossimo video Ciao Ciao